Siamo sulla pista ISAM nei pressi di Anagni per il test drive in occasione dell'inaugurazione di Ecosistema Italia, apparentemente una nuova concessionaria 4Trucks. Siamo con Marco Cicini che è il CEO di Ecosistema Italia. Marco, è una concessionaria Siket Simpliciter? Buongiorno a tutti, assolutamente siamo diventati dealer 4Trucks per la provincia di Frosinone e di Latina. Ringraziamo naturalmente la 4Trucks per la fiducia accordataci e siamo proprio qui all'ISA di Anagni in occasione delle prove test drive della Miraya F-Max. Tra l'altro, sono previste per oggi, abbiamo già iniziato e la parte operativa sta svolgendo il proprio lavoro, sono previsti più di 200 test a cliente. Sì, siamo una concessionaria, ma il nostro obiettivo, la nostra impostazione è quello di essere il nuovo polo della mobilità, sviluppato partendo da questo territorio, Anagni, Frosinone. Ecosistema nasce da esperienze, diciamo, pregresse. Mi sembra, per esempio, BIG è nata nel 2015. Sì, BIG nasce nel 2015, ma Ecosistema ha qualcosa in più, senza nulla togliere alla nostra consociata BIG. Ecosistema Italia è rappresentata da una squadra di manager che hanno deciso di guardare il mondo della logistica, dei trasporti, del delivery, attraverso la dimensione della mobilità, dei veicoli commerciali e dei veicoli industriali in un modo differente, vicino al cliente, soddisfazione dei propri interessi e ottimizzazione delle proprie esigenze. La commessa è importante, l'impatto è veramente importante perché noi contiamo di ricoprire una superficie di 16.000 metri di piazzale, la vogliamo ricoprire di veicoli commerciali e veicoli industriali, naturalmente a marchio 4TRAC. La parte dell'officina 4TRAC, quindi siamo diventati service per la parte Ford, svilupperemo questo lavoro in 2.500 metri. E poi abbiamo 1.200 metri di showroom dove i giganti della strada, come questo bellissimo FMAX, potranno essere osservati e visionati. Allora, la previsione più importante, lo dico sempre in tutte le riunioni con la mia squadra, la previsione più importante è fare meglio quello che già si è fatto, mantenendo i propri volumi. Quindi, prima di tutto, dobbiamo confermare i volumi che abbiamo fatto nel 2023 e ci auspichiamo, attraverso una qualità superiore e una soddisfazione del cliente superiore, ci auspichiamo di portare nel 2024 un più 10%. Grazie Marco Ciccini. Grazie a voi.